Aldo, questo luogo mi piace, sì, guardare questo luogo, sono in un parco, esattamente da YouTube di 15 giorni fa, della Villa Burba, Villa Burba a Rò, questo luogo che stasera c'è la nebbia, la foschia, sto cercando il fantasma, mi incammino verso di qua, là c'è una persona che si muove, cammino in un modo strano, ma non è vestita di bianco, mi avvicino a codesta persona, ho quasi paura, ma paura di che cosa? Sono qui nella Villa Burba di Rò, a vedere anche quest'albero qui vicino a me, la luce che c'è, fonte di ispirazione per i fantasmi, sì, sì, proprio in questo momento sono il luogo dove ho conosciuto 15 giorni fa il mio amico fantasma zoppiccante, oggi ci fa fatica vederlo perché c'è la nebbia, là c'è una persona che si muove dietro la pianta, comunque lo voglio chiamare questo essere non umano, ma questo essere che vive nel tempo, ti dà un'angoscia, una suggestione particolare, poi oggi ha fatto notare anche le sue mani, strano, l'altra volta tentava a non farsi vedere, oggi è diventato più comune, volgo le spalle al mio amico fantasma per guardare questo luogo ambiente che crea un'atmosfera tale che indica lo spettatore a essere convolto in questa atmosfera da attore, non sto facendo l'attore, è una cosa vera, qui il fantasma esiste, sì, proprio alla Villa Rò.